Fave e Pecorino è il titolo del libro, edito dalla prestigiosa casa editrice palermitana Pietro Vittorietti, presentato sabato sera ad Alcamo. Parlare solo del titolo in copertina e riduttivo, se non si aggiunge, quanto ancora scritto? Quattro comari, 12 racconti, 17 meno, 83 ricette. Le quattro comari, che a quattro mano hanno pubblicato un volume che va oltre il solito inflazionato libro di ricette, sono le Alcamesi, Alessandro Accardi, Roberta Accardi, Cinzia Fontana e Nini Lauria. Quattro comari, ovvero la metafora dell'amicizia che diventa soprattutto complicità. Tante giornate trascorse insieme, tante gioie e dolori, quante discussioni e confronti anche su pietanze preparate in famiglia. Allora nasce l'idea, perché non mettere insieme le varie esperienze, frutto in molti casi anche degli insegnamenti di mamma e nonne e scrivere un libro? Detto fatto, perché le quattro autrici dell'intraprendenza e inventiva, nell'affrontare e risolvere i problemi in tempo reale, ne hanno fatto quasi una missione. E anche tre fornelli spesso lo hanno dimostrato. Nasce così Fave e Pecorino, dove emerge il rispetto delle tradizioni, aggiornate con qualche tocco di novità, ma senza perdere il filo conduttore della memoria. Quel filo conduttore che sembra legare la breve biografia delle quattro autrici con i racconti. Racconti contenuti nel libro, che si alternano alle ricette semplici, con belle foto di pietanze, dalle quali sembra di odorare il profumo del cibo appena cotto, che sta per essere gustato dai familiari e amici che hanno avuto la fortuna di essere invitati a quel desco. Sembra di vedere quelle quattro comari, Alessandra, Nini, Roberto e Cinzia, ciascuna delle quali si è auto-assegnato il compito per comporre il mosaico pietanza illustrato nel libro. Dal menù della Befana a quello della Santa Pasqua, dal menù della Notte di Natale a quello di Santa Lucia, festeggiata ieri, naturalmente consigliati vini da abbinare. Ma come dicevamo, le ricette si alterano a dodici racconti scritti da Roberto Accardi, dove traspare la cultura classica. Racconti in fave e pecorino che, forse un po', accomunano le quattro comari, perché i racconti c'erano ricordi, luoghi della memoria, speranze, aspettativi, amori, delle autrici, oggi tutte affermate professioniste legate alla famiglia. Un libro tutto da leggere, tante semplici ricette da provare, tanti racconti che inducono alla riflessione perché esprimono sentimento universale. Il volume, Fave e pecorino, è stato presentato da Maria Elena Vettorietti, giornalista editore, che ha dato alle stampe libri di storia, gastronomia, folcone, tradizione e tanto altro. Il libro sarà presentato domenica prossima, alle 18.30, anche a Castellammare, presso il Tricafè di Corso Bernardo Martarello, un libro che rappresenta un bel regalo di Natale.